... Bignacchi, mi fate schifo, dovete morire! Occhio, occhio, bottiglia, è arrivata una bottiglia. Un insegnante ha detto, però ha augurato la morte dei poliziotti. Certo, perché in questo momento stanno proteggendo il fascismo. E' triste quando si augura a un poliziotto di morire. Allora, lo è, lo è, lo è, lo è, sbagliato no, sbagliato no, perché io mi sarei trovata, io mi sarei trovata, io mi sarei trovata e mi posso trovare, mi potrei trovare fucile in mano a lottare contro questi individui. Io la trovo raccapricciante questa cosa qua, però. È ripresa da una telecamera, da Angelo Machiavello. Io, io, la mia unica espressione rispetto a queste parole è, si sintetizza con una parola, che schifo. Secondo me, lo dico con molta sincerità, un insegnante che augura la morte di un poliziotto, di un carabinieri, andrebbe licenziata su due piedi. Non so se è una cosa per il corribile giuridicamente, ma di che cosa stiamo parlando? Un insegnante viene pagata per andare a educare alla cittadinanza nelle scuole. Grazie. 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 Grazie.